Cosa? La cassa delle offerte. Da sotto al naso alla messa di domenica. O è anche il pedaggio stradale, quindi... Chi altro sa della faccenda? Ah, sono venuto dritto qui. Ma suppongo che l'arcidiacono andrebbe in forza... No, 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 no. O lui spiffera tutto al cardinale. Ma, signore, la chiesa... Si tratta di ordine pubblico e io sono l'ordine pubblico qui. Non posso perdere neanche un altro penny. Signore, è molto tempo che voi non vi confessate. La mia coscienza è limpida. E la vostra? Per quanto ci provi è sempre un guazzamuglio. Comunque sia, aprite sempre le orecchie in quel vostro bugigattolo. Qualunque voce sul ladro portatela a me. Ma con tutto il rispetto, il segreto del confessionale è sacro. Niente, è sacro finché non avrò preso quel ladro e l'avrò rinchiuso in una gabbia. Niente, è sacro finché non avrò preso quel ladro e l'avrò preso quel ladro e l'avrò preso quel ladro e l'avrò preso quel ladro.